Ho detto alcune cose, ma la prima di queste cose è questa, cerchiamo nelle cose che facciamo di non essere accademici, di non essere teorici, di non usare un linguaggio complicato, ma cerchiamo di essere molto molto sintetici e molto molto pratici. La grande differenza è che né io né Massimo, diciamo subito, palesemente siamo persone che vivono di trading full time, io non sono nato come trader e poi mi metto a insegnare delle cose, nasco come formatore da più di anni, anche di altre materie, comunicazione, parlare in pubblico, consulenza aziendale, eccetera, eccetera, mi sono interessato negli anni al trading, esattamente penso per gli stessi motivi per i quali anche voi vi state interessando.